Dove eravamo rimasti, Candy? Stavi suggerendo al piccolo Alberto, qua giù, e i baby, di convincere suo padre ad anticipare la propria pensione. Lui non ha voluto e ti ha detto che sei un, fammi vedere, bastardo d'un nano psicotico. No, 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 ti prego! Adesso ascolta bene, Falcone, perché te lo chiedo per l'ultima volta. Cosa dirai a tuo padre? Che ci ritiriamo dal contrabbando d'armi. Lo prometto, lo convincerò, giuro. Le tue labbra si muovono, Berti, ma non dicono quello che speravo di sentire. Vedete di ammazzarlo, idioti? Mi prego, non farmi male! Che vi ammazzi lui! Cosa stai aspettando? Che state aspettando? Un invito personale? Uccidetelo a mezza calcette! Forza! Ricordatemi perché pago voi ruffiane! Non stateli! Ammazzatelo! Perché devi comport... Fatelo nero, razza di idioti! Aspetta! Ehi, aspetta un momento! Ti ho visto l'opera! Tu e io facciamo lo stesso mestiere! Maschera nera! Ha messo una taglia su di me! Dove si trova? Non seguo tutti gli imbecilli vendicativi ai pochi amici in città! Non hai più tempo! Aspetta! Aspetta! Lacey Towers! C'è stato un amicidio! Doveva essere il suo... Nascondiglio! Ma... Il vecchio maschera nera... Ha come dire i suoi problemi! Qualcuno è entrato! A quanto pare, la partita è finita prima di cominciare. Questo non è un gioco, Slade! Dimmi dove posso trovare maschera nera. Hai dei metodi e delle tattiche notevoli. Ma inferiore. Dun... Un... 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 Tecnica imperfetta. Basta. Prova qualcos'altro. Hai ancora qualche trucco, eh? Prova qualcos'altro. 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 Hai ancora qualche trucco, eh? No! 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 Penace! Devo impegnarmi di da... ...嗎? Nev Mei being you! incumbent Me Ono agh ellong Oh... 1 1 1 2 Grazie a tutti. 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 Posso salire sul terrazzo con il dispositivo di Deathstroke. Posso usare il ga... E' più facile portarsi al letto una suora che entrare in questa stanza. Dai, so, mettici un po' più di impegno a farmi sentire che cosa sai fare. Beh, come puoi vedere, sono parecchio impegnato. Buon Natale e va al diavolo! Il pinguino ormai è fuori portata. L'unica opzione che mi resta è raggiungere le Lacey Towers e indagare sull'omicidio di cui parlava. Alfred, vedi se trovi informazioni su un omicidio alle Lacey Towers. Pare che la polizia sia sul posto proprio ora, sir. Oh, ecco una cosa interessante. Dicono che la vittima sia Maschera Nera. Maschera Nera ha morto. Vado subito sul posto. Posso usare il dispositivo che ho preso a Deathstroke. Alfred, dia alla polizia di dare un'occhiata alla final offer. È ormeggiata ai Dixon Docks. Troveranno Slade Wilson legato che li aspetta, insieme ad alcune armi che il pinguino ha ottenuto illegalmente. Un'altra soffiata anonima? Procedo, sir. Cittadini oppressi di gop! Le vostre grida d'aiuto sono state ascoltate. Sono anarchi, la voce del posto. E vi salverò dalla piega della corruzione che infesta questa città a un tempo così fiera. Chi dovrebbe proteggerci e difendere la vostra libertà non alza un dito. E perché dovrebbero? Sono stati comprati e pagati, incoraggiati a chiudere un occhio. Se non agiranno loro, lo farò io. A levar del sole, i responsabili della rovina di Gotham saranno distrutti! Ora, torniamo ai normali programmi di propaganda e già il pane consumistico assortito. Come se non avessi già abbastanza problemi. Parliamo un po' di rispetto. Non è facile essere rispettati oggigiorno, soprattutto in questa città. Ma sappiamo tutti che il rispetto si può anche comprare. Devo andare alle Lacy Towers prima che la polizia distrugga le prove sulla scena del crimine di cui parlava il pinguino. Posso avere un minuto del potente? Ho una storia da raccontarti. Una storia di crimine e violenza, cupidigia e pentente. Ma anche di redenzione, di nuove occasioni, di cambiamento. Ho nascosto tre bombe nei luoghi dove la corruzione di Gotham è un forno. Ma siccome sono diverso da quelli che voglio combattere e credo nel libero arbitrio, ti faccio scegliere. Lasciale esplodere o fermare. Dalle tue azioni deciderò che cosa fare di te. Signore, di qua! Ho nascosto tre bombe nei luoghi dove la produzione di Gotham è un forno. Ma siccome sono diversi da combattere e credere. Grazie a tutti!